Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e alle notizie dal nostro territorio. Le condizioni di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne, un ragazzo veneto raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava a Roma, al momento è stabile, anche se la sua prognosi rimane al momento riservata. L'atleta è stato colpito da un proiettile ricoverato all'ospedale San Camillo, è stato sottoposto ad un doppio intervento per bloccare l'emorragia toracica e per l'estrazione del proiettile che si è affermato su una vertebra. Il giovane presenta uno stato di coscienza ma al momento non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori. Intanto sul fronte delle indagini si sta stringendo il cerchio attorno ai due uomini a bordo dello scooter dal quale è partito il colpo di pistola che ha ferito Manuel. Gli investigatori in queste ore sono al lavoro per individuare i partecipanti alla rissa avvenuta poco prima in un pub a pochi metri di distanza dal punto in cui l'atleta è stato ferito. Uno dei partecipanti è stato già identificato. L'ipotesi al momento più accreditata rimane quella dello scambio di persona. Paura in centro a Dabano Terme in provincia di Padova. Questa mattina un uomo armato di pistola è entrato in un'enoteca e ha puntato l'arma contro i lavoratori. Voleva il denaro presente in cassa. Sono stati momenti concitati durante i quali gli sono stati consegnati i pochi contanti che erano presenti e si è visto quindi costretto alla fuga. Prima però ha minacciato anche una cliente facendosi consegnare i contanti che aveva in tasca. L'uomo era coperto per non farsi riconoscere. Parlava di Aletto Veneto e si è dileguato a bordo di una bicicletta da donna di colore bianco. Sul posto sono arrivati i carabinieri che gli stanno dando la caccia. E domenica sera c'era stata un'altra rapina però in centro a Padova poco prima dell'orario di chiusura al supermercato PAM in piazza delle Erbe. Ci sono in corso indagini su un'aggressione subita da un giovane a Treviso. Il malcapitato era andato a comprarsi delle sigarette in un distributore automatico. Quando è rientrato all'auto che aveva parcheggiato poco distante ha trovato una donna che rovistava all'interno. Dopo una discussione lei si è allontanata e lui si è messo al volante. Pochi attimi dopo però è stato bloccato da un'auto dalla quale è scesa la stessa donna che poco prima rovistava dentro al mezzo e un uomo. La coppia lo ha aggredito e malmenato. Volevano il portafogli. Pochi istanti dopo è stato quindi derubato dei soldi che aveva in tasca ma anche delle chiavi dell'automobile. La polizia è intervenuta sul posto, ha soccorso il giovane ferito e in breve tempo sono stati identificati anche i due. In mattinata era previsto il rito per direttissima. I due indagati hanno precedenti, si tratta di un padovano e una donna di Capo Verde. Una notizia che arriva dal mondo politico istituzionale del territorio a Padova. Consiglio provinciale è stato eletto, si insedierà il prossimo 15 febbraio. Sentiamo le ultime novità. Ieri ci sono stati anche dei momenti un po' concitati. A Padova è stato eletto il Consiglio provinciale, si insedierà il prossimo 15 febbraio alle 19. La prossima settimana verranno distribuite le deleghe. Il post votazione è stato lungo e dettagliato. È stato necessario un approfondimento da parte dell'Ufficio elettorale provinciale per un presunto errore, peraltro assolutamente ininfluente sull'esito delle elezioni, essendoci un'unica lista in votazione. Per dare il via allo spoglio, che poi è avvenuto regolarmente e si è concluso nel tardo pomeriggio. Superato questo spiacevole disguido, ha detto il Presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, possiamo finalmente metterci tutti a lavorare nell'interesse esclusivo delle 102 municipalità della provincia di Padova. Ai consiglieri eletti ora il compito di essere super partes e di rappresentare la provincia nei suoi bisogni e nelle soluzioni concrete. Una lunga giornata si è conclusa per un disguido tecnico, una verifica che è stata necessaria per la conta dei voti in un seggio. Una verifica che peraltro non portava a nessun risultato ininfluente, essendoci un'unica lista in competizione. Ma abbiamo voluto fare le cose bene. Un grazie ai tanti amministratori, veramente tanti, che hanno onorato con la loro presenza ieri una giornata brutta anche dal punto di vista meteorologico questa provincia. Da parte mia come Presidente ci sarà tutto l'impegno assieme a questa nuova squadra, che si insedierà ufficialmente nel Consiglio Provinciale, che ho già convocato per il 15 febbraio alle ore 19. Ieri sera è stata arrestata una donna di 38 anni per tentato furto aggravato all'ospedale di Mestre. La donna, un'italiana senza fissa dimora, è stata fermata nel reparto di chirurgia dell'ospedale, nel quale si aggirava con fare sospetto. È stata trovata in possesso di un cellulare e 5 euro che aveva appena rubato a una signora ricoverata. Durante l'orario di visita la vittima era uscita per salutare dei conoscenti, lasciando il cellulare e la borsa in camera. La donna, sulla quale pendevano numerosi precedenti e il divieto di ritorno nel comune di Venezia, ha approfittato della sua assenza e dicendo alla compagna a distanza della signora di essere una nipote, ha compiuto il furto. Questa mattina è stata condannata a due anni di reclusione. E dobbiamo parlare di un altro furto. Un'anziana di 91 anni è stata derubata dalla propria badante di fiducia, una 47enne residente a Vigonza, in provincia di Padova. La donna falsificò la firma dell'anziana signora per incassare quattro assegni per una somma totale di 3.000 euro. Approfittando delle condizioni della sua assistita, le aveva sottratto il blocchetto degli assegni. A inchiodarla sono state però alcune telecamere di videosorveglianza. Abbiamo parlato di due furti, ma ci sono degli altri furti che purtroppo vengono compiuti quasi con regolarità su gran parte del territorio. Stiamo parlando dei furti in appartamento. Ci sono alcuni consigli che il cittadino può mettere in pratica. Sentiamo questi consigli diramati dalla Polizia di Stato della Questura di Venezia. La Polizia di Stato ha diramato alcuni consigli utili, piccoli accorgimenti che si possono adottare per scoraggiare eventuali ladri. Ad esempio, non è difficile immaginare che i primi posti esaminati dagli sconosciuti in cerca dei vostri nascondigli in casa per oggetti di valore siano armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti, eppure molte persone ancora li utilizzano. Quindi, se proprio dovete nascondere in casa degli oggetti, sarà utile fare ricorso a un po' di inventiva. Utile, inoltre, fotografare i beni di valore che potrebbero essere oggetto di furto. In caso di furto o anche di rapina, infatti, vi consigliamo di consegnare una foto al momento della denuncia per poterla inserire nella bacheca online. Questo servizio è stato appositamente istituito per contenere informazioni e foto di oggetti denunciati e o ritrovati, in modo da rendere più agevole ai legittimi proprietari la ricerca tra i beni eventualmente sequestrati a seguito di indagini e ottenerne la riconsegna. Domani verrà presentata la diciannovesima edizione della giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico. L'iniziativa punta a mettere a disposizione farmaci da banco, vendibili senza ricetta medica, alle persone e alle famiglie che non hanno possibilità di acquistarli. La presentazione si terrà a Palazzo Balbi, nella sede della Giunta regionale del Veneto, come ogni anno si impegnerà a risultare tra le regioni più generose. A questa iniziativa aderiranno più di 450 farmacie, nelle quali sarà possibile acquistare uno o più medicinali che saranno consegnati a enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico per essere distribuite alle persone indigenti. Oltre ai rappresentanti del Banco Farmaceutico e dei farmacisti veneti, sarà presente anche l'assessore alla sanità e sociale Manuela Lanzarini, tra l'altro eletta da poco. Adesso invece parliamo di un incendio scoppiato ieri in un'abitazione della provincia di Padua. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma ci sono stati dei momenti di tensione. Sentite. Paura a voi Uganio in via Mazzini per un incendio di Vampalto nel pomeriggio di domenica. Nessuno è rimasto ferito. L'intervento dei vigili del fuoco di Este e Padova ha permesso lo spegnimento del fuoco e il salvataggio di due cani. Un Jack Russell rimasto nell'abitazione in cui è scoppiato l'incendio e un cocker presente in un appartamento attiguo invaso dal fumo. Non sono ancora note le cause del rogo che ha provocato dei danni al soggiorno dell'appartamento e ha invaso con il fumo la palazzina attigua. L'alloggio interessato dall'incendio non è al momento agibile, mentre i condomini dell'appartamento attiguo, dopo aver arieggiato i locali, hanno potuto rientrarvi. Si continua a parlare della tassazione per l'ingresso a Venezia. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in risposta a chi gli chiedeva se dal 2022 la prenotazione per accedere alla città sarà resa obbligatoria, ha risposto affermando che si vuole consentire di pianificare la visita a Venezia attraverso la prenotazione, ma non sarà impedito a nessuno l'accesso, che sarà però più complicato per chi non prenota. E adesso parliamo di Suffer Internet Day 2019. Scopriamo di cosa si tratta, una giornata che verrà celebrata domani. Il 5 febbraio 2019 è il Suffer Internet Day 2019, giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell'uso responsabile della rete. La Polizia Postale delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e l'Autorità Garante per le Infanze e l'Adolescenza, ha organizzato dei workshop e dei dibattiti presso le scuole di 100 capoluoghi italiani, tra cui quelli veneti. Con lo slogan Insieme per un Internet Migliore, si vuole insegnare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web, senza incorrere in rischi che da esso possono derivare. Il Suffer Internet Day punta a sensibilizzare anche insegnanti, operatori dell'informazione e genitori, i quali il più delle volte ignorano come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete. Parole di elogio da parte del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nei confronti di due sorelle veneziane. Dopo la morte del padre, avvenuta nel novembre scorso, due ragazze hanno saputo rilanciare l'ultimo squero tradizionale di Venezia, dove Roberto, erede della dinastia di maestri d'ascia del Rio di Ogni Santi, aveva portato avanti l'attività fino alla morte. Con il loro coraggio, l'amore per il padre e il loro lavoro, lo spirito imprenditoriale, ha detto Zaia, Elena ed Elisabetta si sono ritagliate uno spazio nella storia della Venezia dei giorni nostri. Auguro loro un successo straordinario. Queste le parole del Governatore. Adesso parliamo di una manifestazione indetta dagli studenti contro la maturità 2019. Venerdì 8 febbraio alle 9, i ragazzi delle scuole superiori di Padova si raduneranno in Piazza Duomo per manifestare il proprio dissenso sulla riforma della maturità 2019. La manifestazione organizzata dai rappresentanti delle scuole e dalle liste del progetto Reset finalmente sceglierai punta a esternare il malumore di migliaia di studenti che si sentono utilizzati come cavi negli esperimenti del Ministero. La riforma, ritenuta ingestibile per tempi e modalità, viene criticata soprattutto per l'abolizione della tesina, ritenuto l'unico spazio in cui uno studente poteva coniugare i temi e gli argomenti trattati in 5 anni di scuola in maniera propria e unica, costringendolo per l'ennesima volta a ricoprire un ruolo meramente nozionistico e privo di identità. Uno sguardo alle condizioni climatiche, la pressione in Veneto è in aumento e tra domani e dopo domani ci saranno condizioni pienamente anticicloniche in indebolimento da giovedì, ma comunque sempre senza precipitazioni. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.